Il cane non lo portavo a messa, il cane. Al ritorno il cane. E noi possiamo portare un cane, io ho la cosa dei cani miei. Ah, ciao! Per finire. Un attimo. Ciao, ciao! Io non scusco. Dopo me ti sentiamo un'altra. Mi piace. Mi piace. Ma, mi piace. Ma, mi piace. Come te? Si. Oh. La bottiglia stai a dire. Vedete, mi ha dato a sapere. Io ce la faccio a trovare la fine. Si. Mi piace. Vediamo che ho bene. Che ho bene. Io non ho fatto quattro volte. Siamo bene. Grazie. Ma io non ho fatto una... Mi piace. Dobbiamo cliccare. Vediamo che c'è la vita. No. Vediamo. 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 Grazie per la visione!